...con il primo gruppo in gara, loro sono i Borga Team! ...con il primo gruppo in gara, loro sono i Borga Team! ...con il primo gruppo in gara, loro sono i Borga Team! ...con il primo gruppo in gara, loro sono i Borga Team! ...con il primo gruppo in gara, loro sono i Borga Team! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione